Ciao a tutti, benvenuti, benvenuti. Oggi questo video è sicuramente un po' diverso dal solito. Inevitabilmente una riflessione sul particolare periodo che stiamo vivendo, ma ovviamente non voglio discostarmi più di tanto. Vi farò vedere gli aggiornamenti dei miei frutteti. Ho potato gli impianti di pero di quella serie famosa che ha avuto inizio due anni fa, ma non ha mai avuto una fine. Quindi comunque gli impianti di pero del 2018. Sto allevando queste piante di pero su portinnesto BA29 a fusetto. Ora io non è che sia proprio un abile potatore, sinceramente. Non ho più di 3, 4, 5 anni al massimo di potatura alle spalle. Ovviamente nel corso degli anni, da quando ho aperto l'azienda, ho potato i miei frutteti, mi sembra il minimo, su insegnamenti di mio nonno, comunque che all'inizio mi insegnava. Chiaro che lui mi insegnasse a modo suo, cercando ovviamente di insegnarmi nello stesso modo, ma è più che ovvio che ogni persona pota a proprio modo. Come potete vedere alle mie spalle, la fioritura è iniziata. La primavera è praticamente alle porte, anzi direi che la primavera si è già iniziata. Qui possiamo vedere la più precoce delle mie fioriture, la fioritura delle susine cino-giapponesi. In questo caso si tratta di un filare di susina sciro, detta anche più comunemente goccia d'oro. Torno inevitabilmente all'introduzione del video, al periodo che stiamo vivendo, alla tragica situazione. Io non voglio consigliarvi quello che c'è da fare, hanno fatto tanti influencer, tanti VIP, la tv da praticamente un mese a questa parte. Sappiamo già tutti cosa fare. Nel nostro settore agricolo magari siamo un po' più fortunati, nel senso che è difficile per noi, ad esempio per me, è difficile fare assembramenti di persone in luoghi affollati, a parte magari quando dobbiamo fare la spesa o cose di questo tipo. Insomma, noi lavoriamo sempre a contatto della natura, io ad esempio lavoro quasi sempre da solo, comunque al massimo con mio padre che mi aiuta un pochino. Diciamo che noi agricoli possiamo essere un po' più fortunati di altri, nel senso che è più difficile per noi, diciamo, essere contagiati. Comunque la questione è molto più seria di quanto tanti ancora non credano. Oggi siamo al 15 febbraio, è passata una settimana, più o meno, sì, da quando la zona di Modena è diventata zona rossa, come si suol dire, poi qualche giorno dopo anche tutto il resto d'Italia, ma comunque qui a Modena è arrivato il comunicato più o meno sabato sera della settimana scorsa, quindi appunto una settimana. Però appunto volevo dire la mia sulla situazione passo passo, volevo solo dire la mia, niente di che, non voglio annoiarvi troppo, ovviamente nel mentre vi metterò delle riprese, appunto dei frutteti e tutto quanto. Inizialmente non è che considerassimo molto la cosa come pericolosa, anche quando c'erano i primi contagi in Lombardia ad esempio. Tanto è una semplice influenza, colpisce solo gli anziani o persone con patologie. Nì, diciamo. Da un punto di vista medico, io non ho le competenze per parlarne, quindi non ne parlo, non voglio fare il sapientone perché non lo sono, però comunque quello che ho visto è che finché la cosa non ci tocca da vicino, non ci interessa. Abbiamo visto per esempio interviste alla gente comune che faceva l'aperitivo al bar, noi combattiamo il virus con l'alcol, abbiamo dovuto addirittura farci spiegare dalla tv, farci insegnare di nuovo dalla tv come lavarci le mani. Quando poi il contagio si è avvicinato, parlo della mia zona, si è avvicinato a Modena, è scattata questa isteria di massa verso i supermercati ed effettivamente non è proprio la cosa giusta da fare, anche perché, appunto, fin dall'inizio è stato detto evitiamo di andare in posti affollati, evitiamo di svuotare i supermercati, ed è quello che molte persone hanno fatto, non è stato proprio il comportamento giusto, se si vuole evitare un contagio, quello è proprio il comportamento sbagliato, il primo comportamento da evitare, ecco. Diciamo che le misure di sicurezza, le restrizioni agli italiani non è che piacciono tanto, io parlo in generale, non parlo di casi specifici. Poi successivamente, quando tutta Italia è stata dichiarata zona rossa, è stata una corsa dal nord verso il sud, avrete visto tutti i servizi della stazione di Milano, quella sera, il sud in quel periodo era ancora libero dai contagi, da quello che so, e questo è stato proprio il giusto modo di portare il contagio dove non c'era. Appunto, dopo che l'Italia è stata del tutto chiusa, possiamo dire, tra virgolette, molte persone hanno iniziato ad utilizzare termini quasi nuovi, potremmo dire, quasi termini forbiti, arcaici addirittura, come ad esempio pandemia, quarantena. Una cosa che un po' mi fa male, diciamo, è quando una persona utilizza un termine in modo sbagliato, ad esempio quarantena. Molti dicono che siamo in quarantena, l'Italia è in quarantena, vediamo le storie su Instagram, come passiamo la quarantena. Bisogna capire una cosa sola. La quarantena viene applicata alle persone infette. Quindi in breve, se io sono infetto, per fortuna no, io vengo messo in quarantena, in casa mia. Non posso assolutamente uscire, è vietato uscire, non consigliato non uscire, è vietato. Io non posso assolutamente uscire se sono in quarantena, perché sono infetto, e quindi ovviamente se esco, c'è un altissimo rischio che vi infetti altre persone. Invece l'Italia non è completamente in quarantena. Nel nostro caso no, perché ci è consigliato di non uscire per evitare di diffondere il contagio. Sono due cose molto diverse. Appunto, come dicevo prima, gli influencer, i VIP ci hanno detto state a casa, mi raccomando, fate i bravi. Ora, io non sono una di quelle persone che dice agli altri cosa fare, credo nel buon senso della gente, anche se effettivamente in quest'ultimo periodo questa fiducia nel buon senso è un po' calata. Stavo pensando una cosa però, ma davvero queste persone che ci hanno consigliato, che hanno dato tutti questi consigli, tutti questi linei di guida, hanno seguito questi consigli? Non è un attacco a queste persone, è solo una piccola riflessione personale. Dico solo che ci siamo svegliati un po' troppo tardi, nel senso che all'inizio si considerava appunto la cosa non pericolosa, c'erano già persone che comunque si preoccupavano della questione, tipo un mio amico che ha le competenze necessarie, perché lui studia. Quando il contagio non era ancora arrivato in Italia, lui ci consigliava di andare a comprare mascherine, di evitare troppi contatti con le persone. Poi il contagio è arrivato e ci ha detto, ehi ragazzi avevo ragione, adesso pare che anche l'Europa e il resto del mondo si stia svegliando. Ad esempio ho visto che in Nord America, quindi Stati Uniti, Canada, stanno finalmente iniziando a prendere misure di prevenzione, stanno cancellando eventi, show, concerti, tutte queste cose. Anche un po' nel resto d'Europa fortunatamente, a parte dei furbetti, i nostri vecchi amici amanti del tè delle 5, loro hanno oltre 10.000 contagi, dati alla mano, ho letto in questi giorni negli articoli sulla cosa, e diciamo che il popolo inglese se ne è completamente lavato le mani, forse utilizzando i consigli di Barbara D'Urso. Gli inglesi appunto pensano di arrivare a sviluppare un'immunità di gregge, sacrificando però quelli che ovviamente soffriranno del virus. Non ci sono riusciti in Cina, non ci stiamo riuscendo noi, non penso che gli inglesi ci possano riuscire, speriamo di sì per loro, ecco. Non ho altro da aggiungere, sinceramente, era solo una piccola riflessione che volevo condividere con voi, l'ho condivisa con i miei contatti su Instagram e su Facebook qualche giorno fa, ma non è servito a molto, volevo appunto dire la mia anche qui, su uno dei miei video, non tanto per far cambiare idea alla gente, perché non mi interessa sinceramente, io ora torno al lavoro, perché come avete letto dal titolo, io ho scritto io resto a casa a potare, appunto ammetto di non aver ancora finito la potatura, qui appunto vedete questo filare è potato, tanto del resto non è ancora potato, perché appunto ho utilizzato parte del tempo in questo periodo, appunto per mettere a dimora molte piante, e quindi ho impiegato il mio tempo con ciò che era meglio fare in quel momento. Bene, non mi dilungo troppo, direi che sia sufficiente questo video, io vi invito ovviamente a dire la vostra, se avete qualcosa da dire, e niente, molto semplicemente noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.